Noi abbiamo tre persone che per motivi diversi riteniamo fondamentali da votare in provincia di Treviso. Tajani perché è il leader nazionale, la persona di riferimento anche in Europa per quanto riguarda il nostro paese. Flavio Tosi perché sta facendo tantissimo in Veneto per far risalire Forza Italia. Vediamo che i dati e i sondaggi ci danno in maniera assolutamente positiva. E Cristina Andretta, Cristina Andretta è un amministratore di grande esperienza. Puntiamo tanto su di lei, tra l'altro a mia fianca nel provinciale, è una cosa importante. Sono questi i nomi su cui punta, perlomeno nel Trevisiano Forza Italia, con il coordinatore provinciale Fabio Chiesa che rivendica l'anima moderata del partito. La cosa che dobbiamo recuperare è la centralità dell'Europa nel sistema internazionale. È stata un po' persa in questi anni ma soprattutto per i stati anni anche di grosse difficoltà. Ricordiamo il Covid, ricordiamo le crisi economiche. Oggi possiamo ripartire e ripartiremo dal PPE. L'obiettivo per gli azzurri, nella marca come altrove, è portare a caso un risultato in crescita rispetto al 2019, quando l'esito delle urne fu deludente. Cinque anni fa vivevamo in un mondo completamente diverso. Ripeto, oggi Forza Italia è in forte crescita, poi i risultati si vedono il giorno dopo delle elezioni, ma sicuramente andrà bene. E siamo convinti che i nostri candidati potranno veramente fare la differenza oggi sul territorio. E a proposito di candidati, non manca una stoccata agli alleati, in particolare della Lega, con i quali si prospetta un inedito, almeno fino a qualche tempo fa, testa a testa. Non a caso che essa marca la differenza con il candidato Salvignano Vannacci nella bufera per la proposta di classi separate per disabili. Non rappresenta assolutamente i nostri ideali, i nostri ideali sono ideali di inclusione, sono ideali che fanno in modo che le persone che hanno delle difficoltà siano integrate perfettamente e che chi ha più possibilità possa aiutare chi ne ha meno. Però sempre nella logica di inclusione, mai nella logica di esclusione, per cui siamo molto distanti da tutte le dichiarazioni che ha fatto il generale Vannacci. La nostra è una realtà con la più grande percentuale di associazionismo. Noi siamo una società che ha un grandissimo senso di comunità e di inclusione, differentemente da altre realtà politiche che abbiamo detto prima e questo vogliamo portare in Europa. Vogliamo portare in Europa anche un'Italia forte, un'Italia che torni ad essere leader internazionale.